Città ancora sporca a Torre del Greco tra cumuli non raccolti ed ingombranti e le zone dove insistono mini discarichi abusivi sono sempre le stesse, dal centro alla periferia. I disagi sono più contenuti nella giornata di martedì rispetto al quadro ormai consueto che si registra sempre di lunedì. Un duro attacco all'amministrazione comunale arriva in queste ore dal coordinamento cittadino della Lega. Assistiamo ad un fallimento totale sul fronte rifiuti a Torre del Greco, denuncia la Lega. Ci chiediamo come governano e cosa ci stanno a fare i nostri amministratori comunali se non riescono, come dicono, neanche a far rispettare il capitolato d'appalto alla società dei servizi rifiuti e ancor peggio seppur di non assumersi le proprie responsabilità scaricano le colpe del loro disastro gestionale su noi cittadini definendoci come una massa di incivili. Ma è mai possibile che la quarta città della Campania sia abbandonata all'incuria al degrado da un'amministrazione in cui regnano sovrane l'incompetenza e l'incapacità? Questi sono i risultati raccapriccianti di un governo cittadino inesistente che pur di occupare la poltrona sarebbe disposto a tutto. La nostra è la voce di tanti cittadini che sono stanchi di vedere la città ridotta così com'è. Tanti torresi pagano tasse salatissime per ricevere in cambio il nulla. Di qui la richiesta del coordinamento cittadino della Lega. Per non mortificare ulteriormente la nostra città vi chiediamo un briciolo di buonsenso. È ora di andare a casa.